Ludwig Kunz, il figlio di 30 anni dell'ex attrice Ardilona Staller, è stato fermato ieri dai carabinieri a Roma in seguito alla denuncia della madre, che sosteneva di essere stata minacciata da lui con un taser, una pistola elettrica. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Oggi pomeriggio. Il giudice del tribunale di Piazzale Clodio ha convalidato la misura cautelare applicata a Kunz, imponendogli il divieto di dimora nella capitale. Secondo l'accusa, Kunz avrebbe detenuto illegalmente il taser e avrebbe cercato di estorcere denaro alla madre. Quando i carabinieri sono arrivati nella zona di Cassia, hanno trovato il giovane in un bar di fronte al condominio in cui vive. Lo hanno invitato a seguirli nella sua abitazione, dove hanno trovato il taser su un tavolino. Kunz si è difeso affermando, è falso. Io e mia madre abbiamo delle discussioni, ma non l'ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. Non mi appartiene. Il taser ritrovato? Mi è stato regalato da un mio amico e non avevo intenzione di far del male a nessuno. Inoltre, non sapevo che fosse illegale. Attualmente è stato rimesso in libertà. E voi cosa ne pensate di questa storia? Scrivetelo nei commenti. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.